Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simoretti. Ciao Mario, l'articolo che commentiamo oggi si intitola Why people forget that less is often more, che è una cosa difficilissima. Io mi ricordo, se posso raccontare un piccolo aneddoto personale, quando vivevo a Buenos Aires e studiavo il tango, il mio maestro Rodrigo mi diceva sempre, Alessandro ricordati, menos es más. Perché? Perché quando impari il tango che hai fatto da tantissime mosse, mentre balli con una persona spesso ti capita di volergli far vedere tutto quello che hai imparato. In realtà crea una grandissima confusione quando in realtà basterebbe soltanto usare quelle due o tre mosse giuste. Però tesoro di questo consiglio la prossima volta che balle lo tango. L'articolo, appunto, ci racconta di quanto sia difficile per la mente umana spesso sottrarre al posto di aggiungere. Sono stati fatti diversi esperimenti proprio per dimostrare questo tipo di attitudine. È venuto fuori spesso che nel circa 70% dei casi le persone tendevano a aggiungere piuttosto che a sottrarre. Andiamo un po' più in profondità. Qual è il tuo punto di vista riguardo questo processo cognitivo umano? Allora, il primo punto di vista è informazione e sintassi. Ossia, l'informazione è la conoscenza che noi abbiamo che ci permette di guadagnare qualche cosa, un tozzo di pane o i soldi, ok? È l'informazione immagazzinata che ci permette di estrarre ricchezza dall'ambiente. Per esempio un'azienda, anche una cosa più semplice, come immagazzina informazione. La immagazzina con dei processi. Quindi ci saranno dei dati che entrano, l'azienda reagirà a questi dati misurati in una certa maniera, producendo un prodotto che poi riuscirà a mettere sul mercato. Ora, quello che va bene in un momento storico, non va bene in un altro momento storico. E qua parlavamo prima di un racconto autobiografico di Primo Levi, che era un ottimo chimico, a cui capita che un collega, un amico, gli dice che era andato a lavorare per un'azienda piemontese, che aveva un protocollo totalmente ridicolo, ok? Per creare un certo componente. E Levi si mette a ridere perché in realtà quel protocollo assurdo e ridicolo l'aveva creato lui qualche anno prima. L'aveva creato però per un motivo, non per sadismo. Perché c'erano dei problemi e quindi bisognava aggirare questi problemi con questo protocollo. Lui sapeva benissimo che questi problemi non esistevano più e quindi Levi sapeva benissimo che il protocollo avrebbe potuto essere dismesso senza problemi. Ma chi è che si prende la responsabilità di smettere, di cancellare quella che è l'altro aspetto dell'informazione, cioè la sintassi. La sintassi è qualcosa di complicato, che può avere informazione o meno. Se io dico il computer vola sempre più blu, ho detto qualcosa di sintatticamente corretto ma non ho dato nessuna informazione. La stessa cosa, un protocollo all'interno di un'azienda è una sintassi, quindi è qualcosa di complesso che dovrebbe anche racchiudere dentro di sé dell'informazione. In alcuni casi non ce l'ha più. Vengono in realtà decine di esempi alla mente, no? Di sintassi che non viene cancellata ma che comunque crea fastidio, richiede uno sforzo da parte del sistema. Pensiamo alle fantastiche bottigliette d'acqua che non possono essere portate in aereo. In realtà sappiamo tutti, tutti sanno che non c'è più nessun problema a portare una bottiglietta d'acqua. In un particolare momento storico giustamente sono state vietate, è stato vietato l'ingresso dei liquidi in aeroporto. Però, passato il pericolo, qualcuno avrebbe potuto dire, ok, adesso tranquilli, potete portare il liquido. Chi è che si prende la responsabilità di fare una cosa simile? Nessuno. L'Economist fa un esempio molto carino con i Lego. Se non erro stai parlando di quell'esperimento che cita proprio l'articolo dell'Economist in cui viene chiesto una serie di cavie, di esseri umani che fanno da cavie a questo esperimento, di posizionare un mattone su una costruzione di Lego. Per farlo stare in equilibrio possono togliere, quindi togliere o aggiungere mattoncini di Lego, giusto? Sì. Se aggiungono mattoncini di Lego però perdono punti. Cosa è venuto fuori da questo esperimento? Che nonostante questo circa più del 60% aggiungevano mattoncini di Lego al posto che toglierli, sottrarli. Quindi ancora una volta, why people forget that less is often more. Qual è la patria della complicazione dell'ufficio affari complicati? Lo so, lo so. L'Italia! L'Italia. Infatti, concludiamo con due nozioni. La prima è la conclusione dell'Economist che è molto bella. Cita il premio Nobel assegnato a due economisti nel 2002 che dimostrano che l'uomo non è un animale razionale. Grande scoperta. Però gli economisti hanno sempre lavorato con l'idea che l'uomo sia uno in grado di ottimizzare tutto. Invece, come dicevi tu, per i mattoncini dell'Ego, in realtà abbiamo un bias cognitivo. Abbiamo un bias cognitivo perché pensiamo sempre che togliere cose sia pericoloso, che possa creare problemi. Il secondo punto a cui accennavi tu è l'Italia, che si è meritata un interessante report da parte dell'Ocse, OECD, quindi dell'organizzazione, come dice sempre l'Economist, un club di stati per lo più ricchi, in cui l'Ocse dice che o l'Italia semplifica la pubblica amministrazione oppure questa volta veramente sarà il disastro. Ovviamente con l'Italia sarà un disastro per tutta l'Europa. e qua a me viene semplicemente la bellissima storia dell'SRL in Italia. In Italia c'è chiaramente un problema nella creazione di società di responsabilità limitata, quindi bisogna fare dei cambiamenti, e cosa si fa? Si creano altri tipi di SRL. Quindi si crea l'SRL semplificata, che come dire, c'è una complicata e una semplificata. No, semplifica quella complicata direttamente. No, perché devi creare un'altra? Quindi complicare ulteriormente, perché alla fine ne hai due, il sistema è ancora più complesso. Vabbè, lo sappiamo tutti che in Italia non è che i francesi siano poi un popolo semplice, però in Italia abbiamo, sembra, cinque volte il numero di leggi dei francesi. E quindi c'è un articolo su Agenda Digitale, che è una pubblicazione comunque parastatale, dice, la semplificazione è un punto essenziale per l'esecutivo, richiamato anche dall'intervento programmatico del Premier, una condizio sine qua non che viene anche prima dell'introduzione delle nuove tecnologie. Non lo so, cioè, è vero che invece di stare a pensare a intelligenza artificiale e a strumenti mirabolanti, forse è il caso di semplificare un pochettino prima, Per citare ancora una volta l'articolo dell'Economist, penso a Chapman, che è il fondatore delle macchine Lotus, che è stato anche uno degli ingegneri più influenti nei motori da gara, nelle automobili da gara, la cui filosofia era semplificare al massimo. Sì, e la cosa bella è che Chapman cosa ha fatto? Prima ha semplificato il più possibile le macchine e poi è stato il primo a seguire gli insegnamenti di Jim Hall, che era questo ingegnere geniale, che ha introdotto lo studio dell'aerodinamica nelle macchine da corsa. Perché se poi ci pensiamo, introdurre degli alettoni nelle macchine degli anni Quaranta non sarebbe stato molto sensato. Bisognava prima semplificarle e poi migliorarle. Quello che forse dovremmo fare anche qui. Prima semplificare un pochettino la burocrazia e poi dopo, sì, per carità, la pubblica amministrazione può essere anche migliorata con chatbot e intelligenza artificiale. La morale di oggi, ricordiamoci, less is often more. E io alle prossime elezioni prometto di votare un eventuale partito che si dovesse chiamare partito della semplificazione. Bene, Mario, grazie per oggi. Grazie a te. Grazie a chi ci ascolta e ci vediamo la settimana prossima. Buona settimana. Grazie a tutti.